Musica 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 Buona a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Dopo tanto tempo che sono stato in vacanza signori Quindi non ho potuto fare video Dopo tanto tempo siamo ritornati su Minecraft Ma come potete vedere e come potete anche leggere dal titolo Non è un gameplay o cose varie Ma di più un video tutorial Siccome da poco diciamo è uscita la 1.6 Una nuova patch 1.6 con un nuovo launcher Non hanno diciamo ancora fatto l'SP ufficiale Quindi Cercando in vari siti Visto che anche io sono premio quindi non avrei bisogno Ma l'ho fatto anche per voi Cercando in vari siti ho trovato un link Dove scaricarlo Dove scaricare l'SP 1.6.1 Il link è di mediafire Non messo in descrizione Aprendo il link basta soltanto fare scarica Il nostro open launcher ci metterà pochi secondi Ritornando al desktop Il nostro launcher Lo potremo anche La nostra cartella del launcher Lo potremo anche spostare Ehm Aprendola Ci spunteranno diverse Ehm Diverse vabbè due Ehm File ecco Noi apriamo MC open launcher 0.8.3 E aprendola ci chiederà dove Diciamo Ehm Creare la propria cartella per il punto microsoft Vabbè facciamo direttamente salva E si aprirà la nostra Ehm Patch Gratis Gratis SP scusate Ehm Identica a quella premium Quindi non cambia di nulla Solo che è SP Con Spanshot 1.6.2 Mi pare che è americana Quindi non ho bisogno di dire se è avanti o no Ehm Basta mettere il proprio username E non modificare male a directory Perché già è fatto meglio evitare i casini Facciamo play E si Piano piano Comincerà a farsi la console Comincerà A fare il force update Diciamo Ehm Appena finita Diciamo che il gioco è Perfettamente funzionante Quindi aspettiamo il caricamento della console E iniziamo subito Dopo aver completato il caricamento della console Si aprirà una schedina a parte Schedia La cartella a parte Chiamiamo la cartella Ehm Con il nostro Minecraft 1.6.2 Ehm Allora Basta modificare la lingua Non mi ricordo ragazzi Se si poteva modificare in italiano Ah si Perfetto Verre il nuovo launcher Questa è signori Quindi si potrà anche modificare la lingua Diverso da quelli Precedenti Che non si potevano fare Quindi Diciamo che questo può essere anche Tutto i migliori Di quello che ho trovato Con il caricamento del nostro mondo Si cominciaranno a creare anche i nuovi forni I forni I nuovi oggetti Scusate il leggero lag che sto registrando con un bandicam Ed è palloso sul serio Le novità diciamo le troviamo tutte quante nel Nel nostro inventario Basta sfogliarle un po' La novità basata di più è Il nuovo uovo di cavallo Diceranno i nostri cavalli diciamo E cose varie Io non capisco perché non ho la skin Ma non fa nulla E passiamo avanti Questo è un asino Non è un cavallo Ma non fa nulla Signori Lascio a voi tutto il gusto Di esplorare la nuova patch Spero che il video Vi sia piaciuto E vi sia stato utile Troverete tutto in descrizione Tutto il necessario Se vi è piaciuto il video Cazzo ho fatto la foto con bandicam Via Via Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi Lasciate un like E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS